questo riconoscimento è molto importante per me io sono onorata di aver ricevuto questo prestigioso premio da parte di esmo e anche questa fiducia che la società europea di oncologia mette in noi giovani e in me quest'anno questo premio questa fellowship mi permetterà di lavorare al gustavo russi per un anno il mio focus principale sarà la ricerca dei meccanismi di resistenza agli anticorpi coniugati io sono una specializzanda dell'università di milano lavorato con il professore curigliano lavoro con il professore curigliano e lavorerò con il professor fabrizio andrea il mio obiettivo in questo in quest'anno è costruire un ponte in europa costruire un ponte tra italia e francia permettere lo scambio di materiale dati il disegno di studi ritrospettivi o prospettici e rendere la ricerca sempre più efficace più veloce e più efficiente anche grazie grazie grazie